Io sono Alboino, figlio di Audoino, della stirpe dei Gausi. Il guerriero scelto dal possente Dio Votan per sconfiggere i grandi guerrieri cepidi e i loro Eloi. I Longobardi hanno sempre assimilato a sé altri popoli perché sono pochi, sono divisi in tribù e questa inclusione, diciamo, aiuta la migrazione. Decidio dunque, come racconta Paolo Diacono, di affidare il territorio appena conquistato a Gisulfo, sua nipote e scudiero. Con lui, a difesa della mia retroguardia, potevo concentrarmi sulla conquista di questa enorme pianura. Ecco, dalla cima di questo monte, vidi lo splendore del nuovo regno Longobardo. Dio Votan per sconfiggere il territorio appena conquistato a Gisulfo, sua nipote e scoperta a Gisulfo, sua nipote e scoperta a Gisulfo, sua nipote e scoperta a Gisulfo.